ma la riprende ma magari è qualcosa di speciale facciamo facciamo la gara senza collisione attenzione guarda c'è tutta la musica attiva io sto registrando e c'è la musica attiva ma una guarda basta carabiniere 112 quadro basta che cazzo sta facendo registrato si sto evitando perchè eh vedi che cazzo ha fatto il ghostbuster oggi metteremo fino all'odine immaginario una volta per tutte squadra armi ai propri posti daniele l'audio non te sentiamo daniele di pala siciliano quando entri niente buon chiamo salvatore a prossimato non chiamo più daniele ma io non ci ho capito cazzo ma sei registrandosi o no sto registrando eh si è una cosa nuova magari alla fine della stagione ciao mamma sono a tv ciao marina perché io mi sono amato il cazzo mi guarda marie ma io posso che cos'è qua ho capito ma se uno sale dì e io salgo di là ah sono qua daniele sono quattro i posti ma che è quello che c'è qua cosa c'è qua oh daniele ma sta facciamo a gundam daniele 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 metto qua faccio daniele goli faccio bimbo bimbo dici qua daniele daniele c'è nel party ma non si sente si sente più si sente di più si sente di più la mangiare no ma sta giocando si sente di più il rumore dello sfondo che ma state sparando voi che è che è che è andata su chi è che sta sparando a sinistra ma chi è che ha sparato il cannone adesso? I.o. 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 Fasscio a sottchiettare a chi ha sparato con gli chilinari? Io. Ah ok quindi io I.o. 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 entra ma è 38 in secondi no allora c'è circa 14 da 38 minuti si manca 38 io entro non capite che si sa ma non ho capito come dobbiamo fare cioè ce l'ha fatto iniziale ma non ho capito cos'è ma è che lo famo è quindi per me devo fare a posto anche uscire è una diversità durare ma scattato è la proprio sotto non lo capito non c'era qualcosa di strano e quello cos'è a rivella tipo il colpo cannone e inizio a questo dove esso inizio di dati ma non sono molto giudati ah ok me l'ha messo a testa quello che aggancio lui prende ok e faccio iniziale sembra di giocare segreto sembra di giocare tipo oh ecce daniele sembra di giocare del gioco la si chiama la barca ti mettono la bar si tenta settimino giusto aspettate da 30 settimino e rispondo sotto scusa ma non c'è capare la parte rogial perché c'è solo questa cosa con la scusa ma ci aspettiamo 36 minuti a ma c'è anche lo giunto non mi stavano di posto non le sono le riparazioni misate di cui parlava l'oscenziato No! No! Che hai fatto? Una ruvata! Una ruvata! Eh cosa dovrebbe fare un po' qui dì? Ecco, là c'è il suo... Eh, sta ruvando anche quello! Guarda, va qua! No! Ahahahah! 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 Ahahah! Ahahah! Mi ce ne abbiamo aspetta 36 minuti, c'era un livello di portato, sono uscito dal motolo da figlia di là! Io non posso fare 35 minuti di sto cazzo, però ci sono macchiere! Io non ho capito cosa bisogna fare, c'era qui! C'è qualcuno che ha usato... Ah, c'è un sopravaguna, scusate, non ho capito io! C'è quello che ti dice lunare quella? Non me la fa segnare, ma la segnaliamo! C'è quella che ti dice lunare quella? Non è vero! Non mi è vero! C'è quello che ti dice? C'è quello che fai qua? Non ho capito io! C'è quello che fai qua? Non possiamo giocare a barterogli al banco? interrompere il coso e... e rifardogna come guai. Non ho capito, cioè, mi rimedono 35 minuti così. Ah, beh, se metto la musica e ti toglie il coso. Ma non ho capito cosa devono fare. Cioè, dovremmo rimanere... 34 minuti così qua. No, no. Non si può uscire. No, mi dà il cuoricino. Oh, ma te immagini se con questo mostro qua mi intorno ai Kaiju? Però non so se voi avete visto il film. Sì, ha qualche sicurezza. Sì, mica te immagini, c'è il robot, siamo in quattro. Che cazzo è il giro a YouTube, no? L'amico di Aurora, forse. Che notte, no? Aurora! 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 non è ma armenina che dici dai chiamati dai ma andiamo qua qua perché genotti era Aurora no no però magari era qualche suo amico ah no dai dai torti i coglioni voi sta in modalità del merda ma che cazzo? non ti fa fare altro dico adesso io tolgo su della finestra o porca puttana o chi è morto? i diritti della fine si è è una fase Renata rompe i coglioni e tu esci fuori c'è nel cazzo la fa? te sposà e tu esci fuori e fai povero Gabbiano ha perso la libertà moto cazzinua è vero che stai registrando vero? si oddio cazzo stavari oddio cazzo no ma puoi c'è ma aurora aurora e niente eeeh non arrivavano verifica c'è niente jones ma stavano che abbiamo no poi la cancello questa cazzo no 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 ha capito? ma se ti aspetta 32 minuti che faccio il video di 32 minuti che male la visione chiuderebbe eh no ma facciamo una partita normale poi vediamo che cazzo stava vabbè ma la cancello questa no no tiene la tiene per l'audio in che senso per l'audio? scusa adesso ti vuoi dimenticare del fatto che prima bestie mi ha detto aurora aurora che cazzo stava e allora la tengo la taglio e faccio i commenti di codi durante l'evento collisione con l'attualizzata di sottofondo dai basta